La polizia stradale di Angria è arrestato un 55enne di Napoli accusato di furto aggravato di un'auto e di aver declinato false generalità a pubblico ufficiale. L'uomo è stato fermato a bordo di una Renault Clio rubata a Napoli ed intercettata dagli agenti perché dotata di antifurto satellitare. L'auto si stava dirigendo in direzione Torre del Greco quando è stata tallonata dai poliziotti fino a quando dopo un lungo inseguimento è stata bloccata nei pressi dello svincolo di Torre del Greco. L'uomo, un 55enne di Napoli già noto alle forze dell'ordine, è stato trovato in possesso di una borsa al cui interno vi erano numerosi gioielli per un valore stimato di circa 40.000 euro e di un telefono cellulare. L'arrestato inoltre è risultato essere sottoposto alla misura di sicurezza della casa di lavoro di Biella alla quale non aveva fatto più rientro dal 31 agosto 2018 dopo una licenza di due giorni.